buonasera a tutti eh a nome della fondazione Gramsci eh cominciamo questo seminario sulla medialità nella storia innanzitutto eh voglio ringraziare tutti quelli che hanno accettato di partecipare sia in qualità di relatori che di eh che hanno assicurato la loro presenza e un loro intervento eh e soprattutto Laura Di Fabio che ha effettivamente organizzato eh questo appuntamento eh insieme a me e a eh Gregorio Sorgonna che vedo collegato ma non vedo eh un video. La ehm il seminario come sapete eh parte da un libro ma non sarà solo su quel libro eh ma in ogni caso si tratta di un di un volume importante perché eh appunto come dichiarano i curatori e tra l'altro molti degli autori dei contributori di questo volume a più voci sono presenti oltre ai curatori eh oggi pomeriggio qua con noi e parleranno per primi e eh un libro che tenta di spostare eh appunto il piano del discorso dalla storia dei media alla storia della medialità nella storia. Io confesso che sono tendenzialmente molto diffidente rispetto a certe categorie storiografiche però mi pare che questa invece perché tendono poi spesso a cercare di eh come dire la categoria a volte travalica eh un discorso storiografico vero e proprio e quindi si va a cercare le cose che rientrano nella categoria piuttosto che eh ricostruire diciamo dei passaggi e dei momenti della storia ma eh credo che invece sia appunto eh proprio per la suo per lo spettro molto ampio gli studi eh compresi in questo volume vanno partono dall'età moderna e arrivano fino ad oggi e quindi diciamo per eh appunto questo questa latitudine cronologica per anche i temi che vengono trattati eccetera si presta bene come base di una discussione a cui partecipano appunto anche tanti altri studiosi che da varie prospettive hanno trattato eh questo tema o temi diciamo molto sì 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 sì